Amici miei, amici miei, buongiorno, buon venerdì 17 novembre. Cominciamo col dire che nella giornata di ieri si è fatto un po' di chiarezza, un po' di luce sulla situazione Florenzi. Parleremo in questo video anche di alcuni progressi importanti avvenuti a Milanello, soprattutto su un giocatore. E parleremo anche di offerte che sono arrivate per Yassin Adli, ma nello specifico parliamo anche del suo modo di essere utilizzato in questo Milan. Cominciamo con la questione Alessandro Florenzi, perché ieri sera c'era un po' di preoccupazione, cosa succederà, andrà incontro ad una squalifica, insomma tanti ragionamenti e tante ipotesi. In effetti Alessandro Florenzi ha sì scommesso, quindi è vero che ha scommesso, ma non sul calcio. Questa è una discriminante importante, lo sapete anche voi, lo avete imparato con il caso Tonali, con il caso Fagioli, con il caso Zaniolo. Si può scommettere, ma non sul calcio. Quindi nel caso di Tonali e Fagioli, che hanno scommesso sul calcio, sono arrivate delle squalifiche di diversi mesi. Nel caso di Zaniolo, il giocatore ex Roma se l'è cavata con una multa. Stessa cosa dovrebbe accadere per Florenzi. Quindi lui è stato interrogato dalla procura di Torino, un'ora, un'ora e mezzo di interrogatorio. Ma è lo stesso Florenzi che ha ammesso o scommesso, ma mai sul calcio, solo su altri giochi, tra cui la roulette. Quindi, diciamo così, il vizietto del gioco ce l'hanno un po' tutti nel caso di Florenzi, non sul calcio. Questa è la verità che filtra dal giocatore stesso, ma anche dai suoi legali. Infatti, gli avvocati di Florenzi hanno detto, ha chiarito la sua posizione, ribadendo l'assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto è emerso alcun indizio o contestazione in tal senso. Ha riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali e ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al PM per definire la propria posizione al più presto. Quindi c'è comunque un gioco su siti illegali, non è proprio una cosa, diciamo, bellissima quella che ha fatto Florenzi, però almeno, diciamo così, ha evitato il danno maggiore, cioè la scommessa sul calcio. Quindi Florenzi andrà incontro a delle multe. Il nome di Florenzi era emerso dalle varie chat dei giocatori coinvolti in questo scandalo calcio-scommesse. Pare, per fortuna, che l'abbia scampata. Ieri sera ho voluto fare un approfondimento sulla situazione degli allenamenti al centro sportivo di Milanello. Sapete che molti non si stanno allenando col gruppo, per esempio Love2Chic, Kier, Calabria, lo stesso Leao che è infortunato, vediamo se ce la fa per il Borussia, però insomma le possibilità cominciano anche un po' a scendere. Non è semplice, ecco, la presenza di Leao col Borussia Dortmund. È più una speranza da parte del Nier, cioè il Nier spera che ce la faccia, ma non è detto che questa cosa avvenga. Tra i giocatori che stanno ancora facendo personalizzato c'è anche Pulisic, ma dovrebbe lui invece rientrare. Ma ho voluto fare un approfondimento, comunque un'indagine ulteriore sulla situazione di Ben Asser, perché c'è un passo avanti da parte di Ben Asser, e questa è una notizia che comunque possiamo definire positiva, una notizia sicuramente buona, è il fatto che Ben Asser, che l'altro giorno, quindi due giorni fa, aveva svolto solamente la prima parte col gruppo, quindi il riscaldamento e il torello, e poi si era staccato dal gruppo e aveva fatto allenamento individuale. Ieri cosa è successo? Ha cominciato con un personalizzato, poi si è aggregato al gruppo, e ha svolto tutto il lavoro della seconda parte di allenamento con il gruppo. Quindi vuol dire che un Ben Asser che si sente bene, che i suoi allenamenti stanno procedendo per il verso giusto, che davvero sta cominciando a riassaporare anche gli allenamenti con i compagni dopo oltre sei mesi di sofferenza e di lontananza dal centro sportivo di Milanello e dall'allenamento con la squadra. È una buona notizia, ovviamente sappiamo che serve ancora del tempo, sicuramente Ben Asser non ci sarà né con la Fiorentina né con il Borussia, e immagino nemmeno con il Frosinone, però ecco, se magari qualcuno prima immaginava un rientro in campo a gennaio, ora si può pensare ad un rientro in campo di Ben Asser qualche giorno prima. La data è sempre metà dicembre, per non rischiare nulla sempre metà dicembre. Però, insomma, credo che sia una notizia incoraggiante sia per il giocatore, sia per i tifosi del Milan, sia per il Milanello stesso, perché riabbraccia al più presto uno dei titolari di questo Milan, un giocatore fondamentale come Ben Asser. Tra l'altro Ben Asser ha un rapporto molto stretto con Yassin Adli. Su Yassin Adli, ragazzi, purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, io penso che lui abbia giocato titolare in quel frangente di campionato e di stagione perché c'era Crunici infortunato, perché c'era Ben Asser infortunato, e quindi perché c'erano delle problematiche di giocatori nella zona centrale del campo. Altrimenti, secondo me, comunque non avrebbe giocato. Il motivo è perché, credo, immagino, non è insomma in cima alla lista di gradimento di Stefano Pioli, ecco, non è magari un giocatore che convince molto Pioli, perché se dopo il suo esordio in campionato, dopo le partite con il Cagliari, con la Lazio, Pioli gli avrebbe dato maggiore fiducia anche quando, insomma, sarebbe poi tornato Crunici dall'infortunio. Così non è stato. Adli è praticamente sparito dai radar, è stato utilizzato pochissimo e questo dà proprio la sensazione che invece prima era stato schierato proprio per mancanza di alternative. È l'unica spiegazione che possiamo darci. Attenzione perché in questo periodo, dove comunque c'è la sosta per le nazionali, il campionato è fermo, le coppe sono ferme, cominciano anche a girare diversi procuratori e da quello che filtra stanno arrivando nuovamente delle richieste di prestito per Yassin Adli. Quindi nuove offerte per Yassin Adli da parte di altre squadre. La storia di Adli la sapete bene, lui in estate le offerte le aveva, soprattutto da parte della Salernitana, da parte del Nizza, insomma ci sono state delle squadre che hanno chiesto Yassin Adli, ma lui ha rifiutato tutto perché ha detto io voglio giocarmi il posto al Milan, voglio provare a convincere l'allenatore, voglio giocarmi quest'opportunità. Sono al Milan, mi piace la squadra, l'ambiente, sono davvero un tifoso del Milan, non posso arrendermi. Lui diciamo che ce l'ha anche fatta per un certo periodo, poi è ritornato nel dimenticatoio. Ora bisogna capire se riprenderà in considerazione queste proposte che stanno arrivando al momento solamente dei sondaggi, oppure insisterà e proverà di nuovo a strappare il posto da titolare. C'è da dire che con il ritorno di Ben Asser e col fatto sempre che Mr. Pioli, da quello che abbiamo capito, dà sempre priorità a Krunic rispetto ad Adli, per lui le cose si complicano. Perché se prima c'era solamente un giocatore da scavalcare, cioè Krunic, ora ce ne saranno due, Ben Asser e Krunic. Poi, vediamo anche se Mr. Pioli confermerà il passaggio al 4-2-3-1 in maniera definitiva con il ritorno e il rientro di Ben Asser. Magari davanti alla difesa può giocare Ben Asser con Reinders, Ben Asser con lo stesso Krunic, Ben Asser con Musa, oppure manterrà invece l'ossatura di inizio stagione, ovvero il 4-3-3. Insomma, per Adli, secondo me gli spazi si ridurranno ulteriormente, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso. Abbiamo capito che non è proprio in cima alla lista di gradimento di Stefano Pioli, perché appena è tornato Krunic e lui è rientrato in panchina in maniera stabile. Stanno arrivando delle proposte, vediamo se le accetterà oppure le rifiuterà per rimanere ancora al Milan, come mi aspetto che chi accada. Ragazzi, un caro saluto, un abbraccio a tutti voi, vi ringrazio come sempre tantissimo. Mettete like, attivate la campanella e iscrivetevi al canale se vi va. Un abbraccio, ciao!